Buongiorno, un ringraziamento dovuto anche se naturalmente mi ripeto rispetto a chi mi ha preceduto, ma ringraziamento che va ai club che hanno promosso questa iniziativa, che ho avuto la fortuna, il privilegio di seguire un po' dall'inizio, dai primi passi due anni fa quando ero governatore con gli allora presidenti che mi fa piacere rivedere tutti qui in sala, oltre naturalmente a Mario Figus che è stato animatore di questo progetto, ma anche a chi poi all'interno del Rotary ha avuto la sensibilità e l'intelligenza di continuare a portare avanti queste iniziative alle amministrazioni che ci hanno sostenuto. Con l'onorevole Cherchi ci siamo incontrati due anni fa proprio qui al comune di Carbonia e parlammo di questa che era un'idea e mi fa piacere vedere che poi ha preso corpo in questo modo. Qual è il ruolo del Rotary in questa iniziativa, ma più in generale nell'ambito delle comunità? È stato ricordato come nasce il Rotary, ma soprattutto è importante sottolineare in questo contesto quello che è l'aspetto legato a una delle principali caratteristiche del Rotary, quello di mettere a disposizione delle comunità in cui si opera le professionalità dei propri soci. E questo è proprio uno di quegli esempi dove un progetto nasce da quelli che sono i contributi non tanto in termini economici di sostegno ad iniziative umanitarie, ma proprio di contributo alla comunità attraverso il contributo intellettuale dei propri soci. Parlare del ruolo del Rotary quindi significa parlare di come si posiziona il Rotary nell'ambito delle comunità, ma soprattutto di come si posizionerà in futuro. Parlare del ruolo del Rotary significa parlare di quello che sta vivendo oggi il Rotary a livello internazionale, dei profondi cambiamenti che sta vivendo e di quelle che sono le opportunità che si aprono agli scenari futuri. Il Rotary ha in sé il senso del cambiamento ogni anno per i non rotariani, ogni anno tutte le cariche, tutti i ruoli dirigenziali cambiano a livello locale, a livello distrettuale, a livello internazionale, questo sicuramente garantisce una forte dinamicità, ma allo stesso tempo potrebbe rappresentare un limite se non si dà continuità di idee, continuità di progetti. E questo è quello che ha scelto di fare il Rotary a livello internazionale, di cambiare completamente l'approccio gestionale dei nostri club. Quindi è stato ricordato in apertura, ormai si parla di piani strategici, si invita cioè ogni Rotary club a fare un'analisi reale ed approfondita di quale è la realtà del proprio territorio e le competenze dei propri soci e capire quale modello di intervento proporre nell'ambito della propria comunità e all'interno del sistema internazionale di rete dei Rotary Club. Questo offre secondo me delle prospettive molto interessanti e un progetto come quello che viene presentato oggi rappresenta un modello progettuale, proprio un modello di proposta. Questo significa rimettere in discussione anche alcuni modi di vedere i Rotary, di vivere i Rotary e forse anche di lettura dei Rotary dall'esterno, con qualche battuta è stato anche richiamato prima. Sicuramente nella nuova visione che è stata proposta dai nostri dirigenti internazionali si parla di club al servizio della comunità, ma si parla di club orientati all'azione. Questo che possa essere più o meno condiviso dai Rotariani, che possa piacerci o meno, però è un aspetto fondamentale. I Rotary non si riuniscono più soltanto per incontrarsi, per il piacere di stare insieme, per approfondire magari temi così intellettuali all'interno del proprio ambito di associazione, ma si riuniscono con un obiettivo specifico, che non è solo un obiettivo di supporto, di beneficenza, di attività umanitaria, di piccoli interventi, ma è un'azione efficace per la comunità locale, per la comunità internazionale. C'è un altro aspetto assolutamente importante che riguarda il ruolo del Rotary nelle comunità, ed è la forza della rete internazionale. A livello internazionale un altro forte cambiamento che sta interessando il Rotary è il nuovo disegno della struttura organizzativa della Fondazione Rotary, che è poi, noi diciamo in genere, il braccio operativo del Rotary International. La Fondazione Rotary dal primo luglio scorso ha affrontato un programma di sviluppo triennale, un programma pilota in cui noi siamo coinvolti, siamo uno dei cento distretti nel mondo coinvolti, per ridisegnare completamente la struttura operativa. Quali sono i presupposti di questa cosa? Quello di avere un'organizzazione che sia maggiormente riconosciuta a livello internazionale. Noi abbiamo un modello proposto dalla nostra campagna ormai oltreventennale, che è la campagna per l'eradicazione della polio, la campagna Polio Plus, nata da Unitea del Rotary, è diventata poi un'iniziativa ormai conosciuta come Global Polio Eradication Initiative, che coinvolge il Rotary, coinvolge l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Unicef e i centri per la salute di Atlanta, oltre a tanti enti, a tante associazioni e organismi governativi e non governativi. Questo è diventato un modello, cioè è diventata la dimostrazione che con un'azione efficace di collaborazione tra società civile, come veniva detto, e istituzioni, amministrazioni, si può fare molto di più. La fondazione sta ridisegnando la propria struttura perché sente l'esigenza di dialogare con altre organizzazioni a livello internazionale allo stesso livello e quindi ha necessità anche di rafforzarsi. Questo significa che ogni club deve rinunciare un pochino a qualcosa di quelle che sono le proprie piccole iniziative per cercare di pensare più in grande. È stato detto che questo è un progetto ambizioso, ma sono questi i progetti di cui abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di pensare più in grande perché abbiamo la forza e la possibilità di farlo. Abbiamo una forza che ci è data dalla nostra rete di oltre 30.000 club nel mondo e di oltre 1.200.000 professionisti. Questa è una grandissima opportunità che dobbiamo imparare a riconoscere e accogliere. Tra l'altro il piano di visione futura e la fondazione Rotary riporta l'attenzione su quelli che devono essere degli obiettivi comuni di azione, delle focus area verso cui indirizzarsi e tra queste c'è lo sviluppo economico e comunitario. Quindi di nuovo un tema sicuramente in forte coerenza con quello che è il tema sviluppato da questo progetto e quindi sicuramente ci potranno essere, mi auguro, ci potranno essere anche opportunità di supporto a livello internazionale del Rotary verso questa iniziativa. Sicuramente un auspicio è quello di un maggior coinvolgimento di tutti i club Rotary a partire da quelli della Sardegna perché un progetto che, come è stato ricordato, riguarda un'area specifica ma un'area che comunque ha una valenza non a carattere strettamente territoriale ma sicuramente di grande interesse per tutta la regione, sarebbe importante che potesse raccogliere intorno a quest'idea proprio anche gli altri club della Sardegna. Quindi è un invito che faccio ai nostri rotariani per cercare di sensibilizzare e sicuramente sono disponibile per sostenere questa iniziativa. C'è un ultimo aspetto che mi fa piacere sottolineare, è stato già richiamato, è l'attenzione che il Rotary con ancora maggior vigore e maggiore forza sta dando in questi anni alle nuove generazioni. Questo è un progetto che sicuramente va a disegnare anche un ruolo per le nuove generazioni in termini di prospettive, di prospettive occupazionali, prospettive di studio, di approfondimento e in particolare proprio pochi giorni fa leggevo di un'iniziativa dell'ERIC che è l'organo di coordinamento dei club Rotarat a livello internazionale, a livello europeo, che ha lanciato come tema di lavoro per i club, il tema Energy and Ecology, quindi energia ed ecologia, creando una piattaforma per raccogliere progetti e contributi che vengano dai club Rotarat possibilmente portati avanti in collaborazione con i club Rotary. Quindi questo è un qualcosa che avete già pronto, dovete soltanto far sapere che è già stato fatto. Credo sia già un'importante opportunità di sviluppo e di coinvolgimento di giovani non solo rotarattiani, ma offrendo l'opportunità di utilizzare proprio il nostro network internazionale. E concludo con due riferimenti ai nostri motti. È stato richiamato quest'anno ogni anno il Rotary International, il Presidente sceglie un motto rappresentativo, quest'anno è Building Communities Bridging Continents, quindi impegniamoci, tradotto in italiano, impegniamoci nelle comunità ed uniamo i continenti, quindi sfruttare proprio questi due forti elementi che il Rotary ha in sé, quello dell'impegno a livello locale attraverso le professionalità dei propri soci e la rete internazionale. Ma è stato ricordato anche che questo è un progetto molto ambizioso, un sogno che speriamo possa diventare realtà, due anni fa quando abbiamo iniziato a parlare di questo progetto, il motto era Make Dreams Real, quindi facciamo in modo che i nostri sogni diventino realtà, quindi questo è l'augurio con cui vi lascio. Grazie. 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 Grazie.